Cosa è Existe? Existe è una società di diritto cinese che ha sede a Pechino e è stata acquistata dal nostro lavoro nel 2014 e si propone di aiutare le società e le compagnie italiane a procedere in un processo di digitalizzazione voluto ad acquisire parti di mercato particolare ci proponiamo di fare questa cosa e abbiamo una serie di strumenti e alcune parole di battaglia come WeChat su cui ovviamente lavoriamo e lavoriamo per tutti anche io sono come Gianluca quindi non so se qualcuno di voi li seguisse in con valle e quindi quando parlo mi sento un po' come un protagonista che inizia a sudare, sbieri, cittadini a spezzare il nano quindi probabilmente non rispetterò i calmi delle presentazioni tradizionali perché purtroppo la mia eccitazione mi precede ok adesso passo la parola a Yue che inizierà con questa presentazione e ci vediamo più tardi grazie, ma allora io mi chiamo Yue e sono venuta da Pechino e se durante il mio speech diciamo faccio qualche errore di grammatica in italiano perdonatemi perché comunque questa è mia terza lingua allora oggi parliamo di chat per SuperApp per fare tutto allora, comunque il primo slide è per scenario digitale comunque la Cina è un grande, c'è un grandissimo parise qua ho dimostrato come l'azione di social network users per persone che non hanno costruito online perché comunque da noi online acquisto online in e-commerce è veramente un top di hot più internet users, ho scritto qua 98% accende 3.000 mobile quindi noi siamo una mobile friendly quindi in Cina le persone normalmente usano mobile invece di computer quindi noi siamo una mobile allora ma c'è un problema in Cina perché abbiamo questa quick firewall che normalmente tutte queste social media o c'è la come Gmail come Google e YouTube, Facebook, Instagram sono tutte state bloccate quindi non è che quando per esempio noi andiamo in Cina ovviamente possiamo andare verso questa direzione di diverse social media ma insieme con la VPN che è un strumento a pagamento o gratis che ti permette magari di andare oltre questa quick firewall e ha abbastanza cioè la censura in Cina è molto, diciamo, molto stretta chi viene collocato qua abbiamo un po' di description però non faccio il grammo in dettaglio quindi comunque è un paese molto diverso da vostro e abbastanza particolare anche come ingaggiare il consumatore cinese invece di vostro, diciamo, la piattaforma online digitale ci abbiamo il nostro per esempio questo è Tmall è un gruppo di Alibaba e Taubo è sempre lo stesso Alibaba group e Weibo e Didi WeChat non so se voi qualcuno conosce diciamo Cina Repositale Cinese qualcuno di WeChat ok facciamo un principio scusatevi Didi è il corrispettivo di Uber ok Yuku è il corrispettivo di YouTube e WeChat potrebbe essere il corrispettivo di Whatsapp ma è molto limitante in realtà come avete visto la prima slide è una super app poi vi spieghiamo un po' ok oggi parliamo di WeChat come ha detto mia collega non è un WeChat solo per accettare con gli amici possiamo fare tutto via questo chat e in Cina si chiama anche un app per fare tutto da strumento di social communication e ecosistema cerco di fare veramente quello che puoi immaginare qua ti mostriamo un video da circa un minuto qui in questo video vedrete le potenzialità di questa piattaforma grazie a tutti Grazie. Ok, praticamente questa app ha dimostrato che un cliente non ha mai lasciato questa app dalla mattina fino alla sera. Allora alcuni tanti, prima di tutto queste quattro foto che ho fatto due settimane fa per spiegare un po' qua è un caffè, si chiama Vagas a Pechino, abbiamo pagato il nostro cellulare con QR code e questa è una fattura quindi dopo che mi è arrivato questo receipt ricevuta posso scendere questo QR code per ricevere la mia fattura i sitati sono stati mostrati allora qua per esempio abbiamo scritto varie campo, aree, da trasporto fino a e-commerce, retail, manufattura, educazione eccetera eccetera è comunque un'app che conclude tutte queste funzionalità e io dico la verità quando sono, cioè vado a Pechino poi ritorno in Cina e non ho bisogno di cash, non ho bisogno di operare niente tranne il mio cellulare perché posso fare veramente tutto, chiamo Taxi tramite WeChat, pago con WeChat e posso fare tutto qua è un service ecco che alla fondo mi poterà mi chiedere a voi grazie ok allora come avete visto nel video WeChat ci permette nel video si capisce molto bene quindi il WeChat ci permette di fare qualsiasi cosa, dalla mattina quando ci svegliamo alla sera prima di andare a dormire possiamo giocare, possiamo pagare, possiamo ordinare e mangiare, possiamo scambiare soldi durante persone, possiamo fare un sacco di cose infatti ad esempio questo qua è una schermata di WeChat, del wallet di WeChat in cui noi vediamo il balance, la possibilità di aggiungere o togliere carta di credito e una serie di servizi, ad esempio noleggiare le biciclette o ottenere un numero quindi quando noi parliamo di WeChat dobbiamo tenere in mente che non è una piattaforma che in occidente si può provare e per penetrare il mercato cinese WeChat è il santo grande, non si può prescindere dall'utilizzo di questa applicazione questi sono alcuni dati e come potete vedere Facebook nel mondo viene utilizzato per ogni continente meno di quanto WeChat viene utilizzato al cinema WeChat tra le altre cose è una piattaforma che è nata nel 2011 e oggi conta un miliardo di account quindi a maggior ragione non possiamo permetterci di non tenere in considerazione questa è una serie di funzionalità, riprende un po' il video che abbiamo visto prima e questo è perché le aziende dovrebbero pensare di avere WeChat perché ci permette di fare tutte queste cose che vediamo e raggiungere un miliardo di persone ok ora parliamo della parte delle aziende io scarico il mio WeChat metto il mio numero di telefono e mi arriva un codice di verifica e sono entrato nel mondo del WeChat ok? ma se sono un'azienda qual è il mio procedimento? ecco non posso fare la stessa cosa perché l'account deve essere un account di tipo aziendale esistono tre tipi di account, subscription, service ed enterprise noi ci concentreremo sul service che è quello che ci permette di fare le maggiori integrazioni del lato software ci permette di creare WeChatbot ci permette di implementare WeChatbot costruiti in vari linguaggi iTunes, JS, Ruby all'interno di WeChat e l'informazione di subscription e subscription è quello che utilizzano le testate giornalistiche quindi per l'articolo di notizia eccetera eccetera mentre l'enterprise è una funzionalità avanzata che permette di creare una rete internet all'interno della piattaforma e quindi gestire permessi per le entrate e uscite eccetera eccetera qui abbiamo le varie differenze appunto tra i vari account e queste sono le opportunità dell'ufficial account in particolare il service, integrazione, e-commerce, online to offline, influencer, analytics, customer care l'importante è il customer care perché può essere svolto in due funzionalità diverse realmente quindi dall'altra parte a qualcuno che veramente è un umano che risponde o tramite appunto l'implementazione di chatbot è adverso facile ok forse abbiamo dato tante informazioni quindi vedo che ne faccio un po' perplesse ci credo perché entrare in questo ecosistema è veramente complesso ed è un paradigma di un modo di pensare completamente diverso ma qui voglio farvi vedere un caso d'uso molto importante che è appunto la possibilità di utilizzare WeChat per creare dei chatbot ok con le funzionalità base che WeChat ci permette di utilizzare quindi utilizzando la nostra diciamo il nostro back office oppure utilizzando quello che qua vedete è scritto come ambiente sandbox in cui praticamente WeChat ci permette di ci da la possibilità di avere un open platform con tutte le API disponibili agli sviluppatori integrabili all'interno dell'account ufficiale, service, ecco voglio farvi un attimo un'instante su questa cosa perché è importante oggi come oggi se noi pensiamo all'integrazione di non lo so facebook eccetera non abbiamo questa questa limitazione no? cioè io apro una pagina su Facebook le API che ho su quella pagina sono uguali per tutte per tutte le persone che apriranno una pagina ok? quindi le integrazioni che posso fare le posso fare per tutte ok? per tutte le pagine di Facebook qui no se io apro un account subscription ho un set di API se apro un account service ne avrò un altro set se apro un account enterprise ne avrò un ulteriore set quindi è importante durante la diciamo la fase di scelta capire qual è l'account che fa per noi generalmente il service è quello più completo allora ok partiamo dalla prima funzionalità basi che WeChat ci permette di utilizzare allora WeChat ci permette di come avete visto prima all'interno del nostro official account fare pubblicità come? scrivendo degli articoli scrivendo dei post come se fosse una sorta di blog e ci permette già di avere una piccola delle funzionalità basi no? per quanto riguarda la chatbot in cui praticamente posso scegliere ad esempio la lingua qua c'è scritto internet se si legge e l'account mi risponde benvenuti in nostro account ufficiale qual è la missione e quali sono le funzionalità base per accedere ad altri contenuti eccetera ok esatto poi la nostra collega schiaccia B e ci da l'ultimo e ci restituisce l'ultimo contenuto questa invece è una funzionalità che dicevo primo no? cioè customer care cos'è la customer care? è un servizio che WeChat ci permette di implementare quindi dall'altra parte ci sono delle personalità bene ad esempio Amazon ha all'interno un customer care quindi immaginiamo che io sia un produttore di gioielli li vedo in cena però magari il anello piuttosto che l'orecchino non vanno bene ho bisogno di avere un supporto un supporto e la popolazione cinesi si aspetti di averlo in WeChat non si aspetta di averlo da nessun'altra parte se in WeChat non c'è probabilmente non lo compreranno cioè lo compreranno i vostri prodotti come dicevo prima c'è la possibilità di avere come l'azienda fa gocci, forne eccetera eccetera una serie di risposte automatiche quindi una serie di implementazione di un chatbot all'interno di WeChat voglio fare una premessa allora come ho detto prima WeChat nasce già diciamo chatbot friendly quindi ci permette già di avere un set di impostazioni e di implementazioni per creare un chatbot seppur basilato ovviamente gli sviluppatori di WeChat hanno detto ok però signori se poi noi dobbiamo fare qualcosa di un po' più complesso dobbiamo dare la possibilità al resto della popolazione mondiale di integrare loro magari hanno dell'intelligenza artificiale utilizzano una serie di librerie eccetera eccetera e qui vi porto a questo caso d'uso che è veramente veramente importante chi è Neatro? Neatro è una società che produce aspirapolveri di quelle robotizzate tipo ai robot di Roma ok? cosa hanno fatto? innanzitutto hanno fatto due cose la prima cosa che hanno fatto è stato aprire all'interno di WeChat una cosa che si chiama Mini Program che è l'equivalente delle applicazioni iOS e Android per dispositivi ma attenzione queste sono sviluppate in Node.js quindi con tecnologia Node.js e sono sviluppate all'interno della piattaforma qui cosa fai? ti registri adesso sono io per fare una serie di cose comprare nuovi prodotti consumabili chiamare l'assistenza eccetera eccetera e scansionando quel cuore con le potete fare questo potete parlare con il vostro robot e dire che cosa fare? se partire con la polizia se tornare alla base se evitare una determinata zona e il robot non solo ci risponde con ok si va bene o no guarda uno scarico non sono alla base mi sono bloccato ma alla risposta reale ok? c'è un'azione quindi qualcosa succede nel mondo nella vita di tutti i giorni il robot parte e pulisce la casa ok prima poco fa ho parlato di questi mini program faccio un incipit anche se in realtà non è non è questo la 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 serie forse più adatta però sono questi mini program sono di fatto delle applicazioni vere e proprie quindi nei mini program ci sono tutta una serie di funzionalità questo è un pd holland ci permette di comprare ok all'interno degli store il nostro menu pagarlo è semplicemente andare a una cassa e zerarlo ci permette di creare degli store dinamici e ci permette a scusatemi a di fare i giochi quindi teamifico il mio modello di business e faccio qualcosa per attirare i miei follower questo è un caso di studio scusatemi molto importante in cui in 10 giorni successivi alla campagna di questo semplicissimo gioco hanno appunto 18.532 se le azioni 10.000 giocatori questo è un dato importantissimo ok prima di terminare voglio farvi vedere come banalmente funziona la parte di integrazione del chatbot all'interno del chat abbiate qualche secondo di pazienza ok questo qui è la sandbox che mi dicevi prima ovviamente per accedere a questa sandbox è necessario avere un account di chat quindi iniziare sul nostro cellulare potete scansionare un QR code per la login e qua arriviamo all'interno della nostra piattaforma che io ho tradotto grazie agli strumenti di Google My e di fatto il back office è tutto cinese ah ecco quindi purtroppo purtroppo questa cosa qui è così io uso questi stratogeni io vado con i miei colleghi che sono del cinese ma no? delle altre materie non sapendo la lingua ok allora faccio partire brevemente se non è finito fermato trovando tutto cinese qual è la soluzione? non ci deve mi ha fermato vedendo tutto cinese non c'è di questo se non è finito ah ok dai faccio partire di là no perché ovviamente questo è un esempio non c'è di comunicazione inglese quindi il costo è semplicemente il 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 lo inserisco qui questo qua è il mio questo è il 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 sarà il test perchè lo pagherai un po' perfetto ma poi questo il 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 che succedesse, cioè che non fate molto bene. Siamo in più. No, non so. Ok, vi faccio vedere come funziona. Questo è Apple. È destra, eh. Quindi, indietro non c'è, sono illettro artificiale, qualcosa di così, va, varia. Quindi vado qua. Scansiono... Potete farlo anche voi, se ve lo accanto, Scansione da codice. Mi vede fuori praticamente, in... che sto per seguire un accanto ufficiale, seppur ovviamente in est. Vi dicono di seguirlo. WeChat, nonostante sia in Cina, è GDPR friendly, quindi ogni volta che facciamo un'azione in cui stiamo condividendo le nostre informazioni ci chiede se vogliamo farlo, e quindi ci chiede appunto di essere espliciti nella conferma. Io, non so se si vede, io scrivo ad esempio hello, faccio send e lui mi risponderà hai scritto hello. Come è fatto questo software che io in realtà ho integrato? Ho fatto in Python, quindi ho un'altra versione fatta in Node.js e un'altra ancora fatta in Yorubi, quindi in realtà come potete vedere è molto semplice l'integrazione all'interno di vari repository, io ad esempio sono uno sviluppatore di JavaScript che li conosco molto meglio, da parte di Node.js, all'interno del repository NPM ci sono già tutti i vari pacchetti, quindi varie parti di framework o framework per l'integrazione con i chatbot e sulla parte dell'open platform, quindi di tutte le altre API, di tutti gli altri account. Con questo io ho terminato, se ci sono delle domande siamo qui. Una mia curiosità, ma io con il mio account WeChat che ho io in Italia, cioè se vado in Cina non vale niente. No. No. Anche come? No. Devo rin... cioè tra il WeChat e il europeo... No allora, in realtà io... Io vado con le utente, no? No, no, ok allora... Spiego questa cosa perché per molti anni in realtà c'è stato un po' di confusione. Allora, WeChat almeno dal 2016 in avanti non ha mai rilasciato due versioni distinte separate del software. La versione era sempre semplicemente una. Quello che sospetto era, è la seguente cosa, che ci fosse un controllo durante l'inserimento del numero in telefono. Quindi se il numero in telefono era il numero in telefono cinese, ci attivava tutta una serie di funzionalità tipo il wallet. Se invece il numero cinese non ci... semplicemente non ci faceva accedere a quella funzionalità. In realtà anche per diciamo il mercato, per diciamo gli account tra gli europei e comunque occidentali, cosa si può fare? Si può far mandare una busta rossa. Cos'è la busta rossa? La busta rossa è praticamente quel modo che hanno bisogno di scambiarsi soldi, no? È una cosa che è molto tradizionale. In Cina succede spesso, ad esempio, in prossimità del Capodanno cinese. Ed è un po' come quello che succede a noi a Natale, no? I nonni, i zii ci hanno la mancia. Solo che non si le danno più cartacea, ma se le mandano veramente amiciate. Quindi una volta che noi riceviamo la busta rossa, attiviamo le basse funzionalità di portafoglia. Ovviamente, se non abbiamo un bank account cinese, non possiamo fare dei pagamenti. Perché attualmente, diciamo no, allora, attualmente un Bichat ha aperto la possibilità di pagare con carta di credito e di debito overseas, quindi fuori dalla Cina, in 25 paesi, ma l'Italia non è. Tra 25 paesi, in cui 3-4 sono asiatici, tipo Macao, Congo, Singapore, eccetera, eccetera. Da fine degli Stati Uniti, da Francia, insieme a che ci sia in Europa. Ho qualche... prego. Forse sono molto. Eh, la prima è ancora parlare della documentazione. Sì. Che è tutta in cinese, diciamo di aver capito. Ne, in realtà c'è una parola di documentazione che è anche in inglese. Ah, ok. E comunque, io ci lavoro costantemente e devo dire che Google Chrome produce molto bene il cinese. Dal cinese all'inglese produce bene. Dal cinese all'italiano non c'è malissimo. Non fatelo, cioè è inutile. Però dal cinese all'inglese, in realtà, quello che scrive al 90% dei casi è un senso. Poi a volte ci sono delle cose che non sono chiare, quindi bisogna andare un po' a volarci. Ok, la seconda è questo... Adesso di tutti i servizi che hai fatto vedere prima si offre WeChat, quali effettivamente sono utilizzabili? Allora, io parlo del tipo, io non so, sulla comunità cinese in Italia usa WeChat. Se fosse facile per le persone, per le aziende italiane, aprire un account ufficiale verificato WeChat. Allora, io prima ho parlato di questi account, no? E ho detto, ci sono diversi tipi di account ufficiali. Subscription, Service e Enterprise. Esplodendo i due estremi, quindi Subscription e Enterprise. Il Service, per aprire un account service è necessario che vi sia un processo di approvazione da parte del governo cinese. Quindi c'è qualcuno fisicamente in Cina che controlla che la tua unità sia reale. È così. In realtà si può aprire un account ufficiale in Italia e il processo è comunque un po' lungo. È una cosa che si può fare da pochissimo tempo e in realtà non è banale. Però quello che noi ci proponiamo di fare è di aiutare le aziende italiane a aiutare il mercato cinese. Quindi in realtà quelle cose che io dicevo, spieghiamo, si possono fare tutte perché la causa comunque viene aperta da vicino. Quindi su business life cinese, quindi ha tutta una serie di vantaggi. Dunque, abbiamo visto che è una piattaforma comunque di base di chat. Si possono azionare dei processi mediante chat, fare ordini, attivare un robot che fa delle cose. Inoltre uno può implementare dei chatbot. Sì. Ok, ma in teoria allora sarebbe possibile implementare un chatbot in modo che lui autonomamente chatti con altri chatbot e con altri servizi in modo che autonomamente attivi le cose. Cioè, diventa una piattaforma in cui è già pronta una sorta di indipendenza e automazione di un agente informatico per cui questo... Non lo so, io lo lascio a casa per un anno e gli dico fammi venire... Cioè, ci pensa lui a far venire, non so, la manutenzione, a far venire qualcuno che lava, qualcuno che pulisce. Potrebbe essere già possibile una cosa del genere? In realtà no, perché... Allora, la piattaforma necessita che con la chatbot ci sia un'interazione da parte di account personali. Io personalmente non ho mai provato e non conosco, non ho idea se sia possibile fare interagire un account, una chatbot con un'altra chatbot all'interno della stessa piattaforma. Penso che non sia possibile ma proprio per limitazioni tecniche. So che è possibile creare una chatbot personale, ma anche in questo caso, intanto workaround, non è una cosa che lui ti permette di fare relativamente. E in secondo luogo, comunque la chatbot, abbiamo modo di vedere, almeno come lo scrivo in WeChat, che c'è che si necessita sempre di un'interazione da parte di un'unione. Cioè, insomma, verifica che dall'altra parte ci sia effettivamente un'unione. Ci sono delle altre domande? Sì, nel video iniziale... E' più una domanda culturale che tecnica. Nel video iniziale si vede una propensione del cinese avere sempre qualcosa da comprare o sapere come comprarla. E sembra che WeChat offra quello che serve là dove serve nel momento in cui serve. Cioè, se molte problematiche italiane, europee e americane sono facciamo se, ottimizziamo, voglio essere presente, pago la pubblicità per essere trovato per primo. Qui come funziona? Allora, ok. Funziona così. WeChat vende advertising a un prezzo... non vorrei dire, però, non vari a quello dei canali occidentali, un po' più alto. Quindi, è possibile... generalmente quello che vende di più sui momenti. Ok? Quindi dal... corrispettivo dei commenti di Facebook, eccetera. Questo è il primo... è quello che fa WeChat. Cosa fanno però... cosa fa l'ecosistema culturale finese? Fa tutta una serie di campagne per l'utilizzo di WeChat. E una delle campagne che funziona di più è l'utilizzo di questi KOL influencer. Allora, noi conosciamo tutti, no? La Ferragni, che è la blogger, l'influencer più famosa d'Italia, eccetera, eccetera. In realtà loro hanno una marea di influencer, che hanno una marea di persone che li seguono, ma veramente milioni di persone, divisi per settore. C'è quello che si occupa delle automotiche, quello che si occupa delle voci, quello che si occupa delle vestiti, delle scarpe, dei computer, dei droni, eccetera, eccetera. E quindi quello che funziona tanto è l'utilizzo di KOL, che evidentemente ha un prezzo variabile in base a quanti KOL, quanti follower ha il KOL, quanto scrive su quell'argomento e quanto ti promuove. Però voglio fare due esempi che sono, a vero, più eclatanti del mercato cinese. Questi sono i seguenti seguenti. Un certo Mr. Berg ha venduto 500 corse in tre minuti. Anche di KOL. Sì. C'è tipo in borse da... Un micro? Che marcherebbe un basso. Top. E quindi non borse da Zara. E le ha vendute in tre minuti. Un altro influencer, di cui ora mi sfugge il nome, ha venduto 40 o 50 Mini Cooper, un preordine su 18, in tempo analogo, 5 mila euro. Preordine perché non è possibile fare delle transazioni superiori a, se non sbaglio, 49 mila renminbi che sono circa 7 mila euro, 6 mila euro. Quindi ha fatto il preordine, però il preordine era di 4 mila euro, 1900 euro. Cioè nel senso una volta che c'è il preordine, ha riformato, come se avessi fermato, ti fatto il contratto. E quindi c'è questa potenzialità, è ovvio che questi sono dei casi, mi è successo, che portano un po' all'esasperazione, no? Però culturalmente diciamo che loro hanno loro. La Cina è in una fase in cui il bilan è enveloppante e le persone hanno tanti soldi in tasca e si possono permettere di spendere e spendono. Perché il consumismo è sufficientemente, diciamo, sponsorizzato. Anni 80, nostri. Secondo me sì, sì, qualcosa di questo tipo. Allora raggiungo altri due punti per rispondere alle domande. Allora, i popoli cinesi, per esempio adesso anche la nostra generazione, dopo 90, noi abbiamo, diciamo, una potenza che acquista, possiamo comprare cose innovative, molto belle, eccetera. Poi ci sono due cose importanti per il consumatore cinese. Uno è i sconti, quindi qualsiasi volta, se mi fa un sconto anche il 10%, io sono molto entusiasta. Seconda cosa, come ha detto mia collega PPL, quelli Key Opinion Leaders, quelli che hanno un sacco di followers sui social media cinese, e noi, anche, credo molto, per esempio, passaparote, per esempio, mia amica ha preso questa corsa di Toz, io ho visto, ah, molto bella, vado io direttamente su WeChat, ufficio camp di, diciamo, Toz, vado a fare acquisto molto, molto rapido. Quindi una transazione si può finire anche in due, tre minuti. E poi, per esempio, questo è un'altra che sta di mini programma, questo si chiama Bokujie, Marshall Store, e qua c'è scritto official account, official partnership di WeChat. Quindi quando entra questo, diciamo, mini programma, questo paggio, questo sito, puoi cliccare qualsiasi marca, oppure il prodotto che ti piace, termice, diciamo, acquisto, veramente in breve tempo. Quindi tutto per convenienza. I cinesi, come ho detto, abbiamo parlato di mobile friendly, e quindi noi, veramente, passiamo veramente tanto, tanto tempo su mobile. Quindi è diverso, diciamo, per esempio in Italia, noi andiamo ormai su Amazon, qua c'è tutto. No, esatto, cioè, qual è la potenzialità, poi magari, se siamo fuori tempo dicendo, qual è la potenzialità? Ed è il motivo per cui voi in realtà sono così incentivati, no, a spendere. Prendiamo il caso che, faccio un esempio, io devo cambiare i dischi del mio NAS, ok? È una cosa che fanno tutti, una cosa abbastanza di nicchia. Caspita, devo andare su Amazon e dire quanto costano, non so, gli Iron Wolf della Seagate, poi vado su e-mail, poi vado su Trovaprezzi, poi vado su un altro sito, vado su Mediwal, se proprio non mi vendono, e dico, caspita, Mentre con WeChat questa cosa non accade. Perché non accade? Perché io non esco mai da quella perteforma. Cioè, io non esco mai da WeChat. Cioè, io passo da un official account a un altro, come se stessi navigando in internet, in una modalità, innanzitutto, molto veramente friendly, perché è veramente semplice e semplice. E non dici, caspita, adesso a un certo punto devo pagare, come pago, aspetta la cartellina. Cioè, no. Mi viene con un QR code, tengo premuto, mi dico, caspita questo QR code, e mi dico, guarda che è un pagamento di 200 euro. Procedi, procedi. È corretto dire che c'è un'interfaccia semplificata e standardizzata per non far pensare troppo e avere subito la risposta? Io non userei la parola standardizzata, perché bisogna tenere in considerazione il fatto che la popolazione cinese ha saldato la desktop era. Quindi loro sono passati dall'offline al mobile. Quindi loro non devono adattare nulla. Cioè, non hanno... Anche se noi in realtà diciamo sempre la mobile first, non vediamo niente. I nostri clienti vogliono sempre prima il desktop, vogliono vederlo perché ci siamo abituati così. ma non solo noi europei, anche, diciamo, canadesi, americani. Invece per loro questa cosa qua non esiste. Cioè ci sono persone, ci sono aziende che hanno account su WeChat e non lavorano neanche il sito. Perché non stanno? Sì. Ci sono delle altre domande? Ah, una curiosità sui... che io ebbe. Ma sono in qualche modo soggetti al controllo del governo? Cioè loro possono... Cioè loro non possono assolutamente dire... Mettiamola così. Possiamo dire che ultimamente si è... Cioè la stretta non è forte come tanti anni fa, no? Perché comunque, insomma, c'è un pochettino più di libertà. Anche perché comunque hanno bloccato praticamente tutto quello che poteva arrivare dall'esterno. e quindi sono già super controllati. Non gli viene proprio nemmeno in mente, no? Di fare cose contro... Che forse non possono danneggiarli. Perché comunque anche Yoel può darglielo su questo. E sanno perfettamente quali sono le linee guida. E nessuno si sognerebbe mai di fare queste cose qua. È una questione economica, culturale. Nel senso... Non penso che se qualcuno di noi avesse 3 milioni di follower e sapesse che il nostro governo, se diciamo che, non so, Venzi, Di Maio, Zalbini sono fascisti e ci caccia dal paese o ci arrestano, lo faremmo. Secondo me non lo farebbe nessuno. E loro ha fatto che non lo faranno. Perché sono veramente molto verticali nel loro settore. Quindi... Non gli importa. E poi ho un'altra domanda. In un ipotetico customer service gestito dall'Italia E' possibile creare contenuti o interfacciarsi con i clienti cinesi utilizzando l'italiano invese e poi... Cioè, senza utilizzare il cinese. Ok. E non c'è un servizio di traduzione... Lo dico così tanto per rendervi parte di GP. Io non so il cinese e vado in Cino nel 2016, più o meno da quando ho iniziato a lavorare per questa compagnia. E qual'è il discorso? Che in Cina, a Pechino, che è la capitale, quindi non stiamo parlando delle campagne cinesi dove raccolgono il riso, tipo Mulan, ma stiamo parlando di una città che conta una cosa come 22 milioni di abitanti. Le persone che sono i cinesi ci sono, ma sono in una nicchia e sono generalmente localizzate all'interno delle aree più internazionali, no? I tassisti non sono in inglese e non gli interessa saperlo. perché un miliardo e una quattro persone del mondo parla cinesi, quindi non hanno nessun interesse ancora. I ragazzi, in realtà, dell'età di me, che è comunque una millennials, sono più propensi in questo, però loro sono una parte. E comunque non tutti hanno... fanno le università all'estero, non tutti vanno in giro per il mondo, ok? Quindi... se, diciamo, non hanno... se i ragazzi sono dei ragazzi normalissimi, quindi di una famiglia normale, studiano e lavorano in Cina, difficilmente impareranno. Quindi assolutamente il cinese è... imprescindibile, specialmente sia per le chatbot, sia per la parte di customer care. Ok, quindi il contenuto qui deve essere creato in Cina. Chiaramente. Una domanda. Una domanda di slide. Sì. Quante persone non cinesi usano in chat? Allora, non è possibile avere questo dato. Noi non... l'abbiamo cercato diverse volte, ma non lo troviamo. non troviamo questo dato in realtà, però poche... poche... poche persone. In realtà... ehm... Tencent, che è appunto... proprietario di V-Chat, ha un ufficio a Milano, ok? che è un ufficio europeo, credo che sia. Ed è rappresentato... cioè all'interno di questo ufficio ci sono due persone. Quindi stanno promuovendo, fanno una serie di attività. ma... quindi in realtà non è molto importante. quindi, diciamo... se... se... se una venda italiana vorreste... utilizzare la comunità cinese italiana, piuttosto che i turisti cinesi che arrivano in Italia, che vengono gli servizi prodotti di V-Chat, non deve fare un ufficio cinesi. Di conseguenza deve avere almeno una persona che sa cinesi. Un ufficio cinesi, magari anche che usa le stesse v-Chat. Allora... Questi modi diventi un po' difficile. Sì, sì. Allora, non voglio andare... cioè se non voglio entrare troppo nel dettaglio, però, ad esempio, noi abbiamo alcune partnership con alcune società in Cina che danno supporto di V-U-A a dei prezzi comunque abbastanza competitivi che sono comunque meno di assumere una persona che vive cinesi in Italia e di avere lo staff, eccetera, eccetera. Comunque, di base sì. Cioè, soprattutto per l'inbound tourism che è una cosa che dovrebbe essere sfruttata un po' di più perché comunque siamo forti su questo. Cioè, i cinesi vengono da noi volentieri. Vengono a Milano tantissimo perché è la città dello shopping quindi spendono anche parecchio. In un altro slide noi non siamo alcuni dati e lo continuo medio di un cinese è vice di mille euro. Quindi, voglio dire, quando vengono spendono e spendono parecchio. perché loro sono però esigenti quindi tutta la parte di customer, tutta la parte di post vendita ma anche la parte di pre vendita quindi dove magari lui ci chiede qualche cosa quindi dice che aspetta vorrei comprare questo paio di scarpe che c'è in questo numero. Ecco, la pubblicazione si deve essere in Italia. Ok, allora le prossime domande le facciamo dopo. Adesso però lei publierà quando c'è qualcosa che esiste. Ok, allora comunque noi, come ha detto mia collega, ci do un ufficio sia a Pechino anche a Milano e personalmente parliamo anche un altro ufficio a Londra e noi come si può vedere da queste tre parti che è consulenza per l'internazionalizzazione in Cina software development e marketing and communication per qualsiasi, diciamo, in particolare approfondimento se volete fare, noi siamo liberi e possiamo chiacchierare e avere due parole. Allora, oggi sono io, Yue, e vincendo mia collega e due progetti meglio, diciamo, che è veramente un grande piacere per venire qua e veramente grazie mille.